Sempre in diretta con la realtà esterna, non so se lei si ispira più a Conte o Di Maio, non glielo chiedo ma lo so, pare che Conte abbia detto sul telefonino, lo leggevo qualche istante fa, che questa notte ci potrebbe essere un'evoluzione notturna, ecco la chiama notturna, essendo fatta di notte non può che essere notturna, lei è qui da noi l'altra volta, non entrava in studio perché stava fuori due ore in macchina con Conte perché doveva spiegare, lei ha avuto... E io sto qui con lei, l'unico messaggio è quello di un medico che mi ha scritto... Ah eccolo, diciamolo, vabbè, quindi su Conte non mi dice dell'evoluzione... Sto qui con lei, c'era la riunione... Ma anche lei è diventato democristiano, ma guarda una roba, la Moretti è democristiana, lei è democristiana, ma che è successo a questo paese? Nasciamo tutti, o di estrema destra, tutti moriamo democristiani, quindi... Non sa se che stanotte... Non lo so, sto qui con lei, appena vado a dire... No, perché quando torna mi mandi un messaggio, invece quel medico...